Prontissimi per una nuova puntata di Risate di strada Colpi di umorismo nella tua città Se ti dico, qual è il drink preferito dai pescatori? Il tè alla pesca Bravo! Cosa ci fa? Un fiore in una doccia? Sì, avanti Se ti dico, come mai i pesci hanno le spine? Perché il mare ce la corri Perfetto! Perfetto! Ci vediamo la prossima settimana con Risate di strada Oh, occhio al flash!